Musica Tres spettatori, ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Tornata a riunirsi oggi la seduta del Consiglio Provinciale di Crotone tra abbandoni e polemiche. Appena è arrivato all'interno, chiamiamolo amiciclo perché così dovremmo chiamarlo, siamo nel salone della regioneria dove oggi si terrà il Consiglio Provinciale, in seconda convocazione l'avete chiarito questo aspetto. Il consigliere Barberio gli ha detto, con quale maggioranza è andata avanti oggi? Ma la maggioranza che spero ci sia, delle persone che vogliono bene a questo territorio e vogliono in un ente che proprio le notizie sono di oggi, pare che vada verso lo scioglimento di tutte le province, vuole che e tende a far sì che quegli interventi che sono stati programmati possano essere avviati e realizzati. Quindi io spero che ci sia la maggioranza dell'essere e non dell'apparire, che ci sia la maggioranza dell'essere e non dell'avere. Vediamo che cosa succede. Per il momento l'opposizione è dentro. Sereni e tranquilli come sempre. L'opposizione c'è. E questo è già un buon segnale. Poi d'altra parte l'opposizione in questi anni ha dimostrato, al di là del ruolo che deve, fra virgolette, svolgere e deve recitare, di poi capire quali sono i momenti in cui c'è bisogno di unirsi per il bene del territorio. Vedremo se questo sarà questo. Quali punti saranno trattati oggi? No, oggi in seconda convocazione tratteremo, almeno questa sarà la mia proposta, la risposta alla Corte dei Conti, proprio perché adesso il termine è diventato perentorio, entro 60 giorni dalla comunicazione bisogna rispondere, i 60 giorni scadrebbero giorno 1 e di conseguenza oggi è 1 novembre, oltretutto festivi, santi, funti, e quindi è opportuno farlo oggi. Poi ci sono dei punti di sistemazione dei gruppi, di adeguamento dei gruppi, che sinceramente non so se... Non si capisce più niente da quale gruppe appartengono? No, non so se sia necessario farlo meno, se ci sarà maggioranza lo faremo, poi fermeremo il Consiglio per poi affrontare il discorso del regolamento COSAP, dove qualche mentecatto in giro ha scritto, ha detto qualche cosa, qualche consigliere forse ci è andato a presto, perché io televisione non ne vedo, quindi sono sintonizzato solo sul satellite, quindi per affrontarlo bene, per chiarire bene, e poi con coscienza vedere se è il caso di farlo o non farlo. Mi avviso è un'ottima opportunità, se il Consiglio deciderà che non è un'opportunità non si farà. Il problema qual è? I consiglieri dicono, di maggioranza, che non è stato discusso, ma anche quelli di opposizione, che il problema non è stato affrontato dalla Commissione, così come di solito si deve fare quando si va a modificare un regolamento importante. Cioè i consiglieri non conoscono l'argomento, non sanno che cosa si fa, e questo è il punto, non è un problema di mentecatti o di altro. No, a mentecatti non mi riferivo certo ai consiglieri, non mi permetterei mai, anche perché non lo penso, che questo, mi riferivo ad altre situazioni. È anche vero che per discutere nelle Commissioni, nelle Commissioni bisogna esserci, o quantomeno bisogna restarci per i tempi necessari per discutere. Molto spesso, questo non sta avvenendo, però per carità, ognuno fa quello che gli dice il cuore, che gli dice il cervello. Va dove la porta il cuore? A lei il cuore dove la porta? Nel PDL o in Forza Italia? Ma io l'altra volta ho detto Falchio Colombo, ho detto io sono ornitorinco, io penso che sia una questione veramente che mi interessa. Ma si dovrà schierare per forza? In Calabria? In Calabria lo schieramento c'è già. Mi interessa poco. Presidente della Giunta va con Alfano, poi ci sono parlamentari che si schierano da una parte e dall'altra. Presidente della Giunta Provinciale, perché occupa un ruolo importante, almeno fino a quando la provincia ci sarà, da quale parte si colloca? Una scelta dovrà farla, Presidente. Certo, io penso di fare, ancora non ho deciso perché non se ne è parlato, di fare la scelta al di là che la Calabria come territorio nei partiti sta contando molto poco, nel PDL come nel PD. Io vorrei che ci fosse una scelta unitaria, in un senso o nell'altro, della maggior parte degli esponenti calabresi, proprio perché per avere un peso. Fino adesso la Calabria ha pesato poco nel PDL e ha pesato poco anche nel PD. Quindi probabilmente poi alla fine mi adeguerò a quello che faremo una scelta, a meglio io vorrei fare una scelta di territorio calabrese, fermo restando che secondo me l'unità è importantissima perché non ha una frammentazione ulteriore dei partiti, tranne se non si va verso la legge proporzionale perché si sta pensando anche a una legge elettorale di natura proporzionale, allora poi i seggi verranno attribuiti in base ai voti, non si vincerà come col maggioritario in base a un voto. Quindi questo cambierà anche l'ottica della situazione. Il maggioritario è una cosa, il proporzionale è un'altra. Allora Barberi, il Presidente ha detto che intanto bisogna andare a votare immediatamente la risposta alla Corte dei Conti per non rischiare lo scioglimento anticipato addirittura rispetto a quello già annunciato. Non sarebbe male. Non sarebbe un male. E allora che ci fate voi qua? Perché l'opposizione è presente se non sarebbe un male? L'opposizione è presente perché noi dobbiamo sciogliere prima il nodo se oggi siamo in primo o in seconda convocazione. Quindi ancora questo nodo non l'avete sciogliato? No, perché... Il Presidente dice in seconda. Eh, me lo deve dire il regolamento, che lo dice il Presidente, il Presidente può dire quello che vuole. Il regolamento dice che oggi siamo in prima e lo verificheremo all'inizio come pregiudiziale. Quindi voi all'inizio porrete il problema della pregiudiziale. Dove che dice tratteremo la prima questione e se saranno d'accordo i gruppi e se ancora saranno d'accordo il regolamento COSAP? Ma il regolamento COSAP non si può fare oggi proprio perché siamo in seconda convocazione. Perché devono studiare. Il Presidente, la Giunta deve studiare. Se dice che è in seconda convocazione e poi dice che vuole fare il regolamento COSAP vuol dire che il Presidente Azzurro non conosce il regolamento. Cioè che dice i regolamenti a questo proposito? Il regolamento dice che gli atti fondamentali del Consiglio non si possono votare in seconda convocazione. E tra questi anche i regolamenti. Ma non conosce non soltanto il regolamento. Questo lo dice la legge, il 267 del 2000, non lo dice il regolamento. Quindi per votare un regolamento del Consiglio ci vuole la maggioranza qualificata. Se in seconda convocazione non è qualificata la maggioranza. Quindi è una contraddizione in termini. Il Presidente è interessato come sono andate le primarie nel PD? Sono andati bene perché tre candidati validi, giovani, hanno fatto un confronto democratico senza tensione come purtroppo in alcune parti. Le tessere in più, quante tessere in più ci sono state nella provincia di Crotone? Ma questo non lo so per niente. Io credo che sia tutto in regola, presumo io. No, no, le tessere in più sono regole normale. Non lo so, non ho idee, non ho idee. A livello regionale qualcuno ha pensato di allargare fino a un massimo del 30% le nuove tessere rispetto a quelle. Io onestamente non so dire perché lei sa che sono impegnato a sostenere questo impegno di Gianni Pitella e quindi sono in giro per tutta la Calabria. Presumo che qui sia nella regola, tutto nella regola. No, no, nella regola. Allora, cosa fate stamattina? Ma stamattina vediamo se c'è questa maggioranza. Resterai in aula a mantenere la maggioranza o no? A mantenere la maggioranza certamente no. No, resteremo in aula o non resteremo sulla base delle valutazioni politiche che faremo insieme a tutti gli altri della minoranza. Quindi il nostro atteggiamento non è un atteggiamento distruttivo, eccetera. Il nostro è costruttivo, però la maggioranza deve avere i numeri. Allora, l'orecchio, la maggioranza c'è stamattina? Ce la vede la maggioranza, quella del PDL, stamattina? Quella del PDL. La maggioranza ce l'ha il Consiglio, non il PDL. Eh, vabbè, quella del PDL, lì sono i problemi. Adesso vedremo. Da qui a breve, da qui a dieci minuti sapremo. Scatta l'ora della verità. Scatta l'ora della verità. Senta, lei come si colloca? Con Alfano o con il Presidentissimo? Con Berlusconi? Ma Alfano non è contro Berlusconi. No, adesso nascerà in Forza Italia o resterà nel PDL? No, assolutamente. A livello regionale si sono già divisi. Sì, no, 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 ci sono delle dichiarazioni di scopellite con gli altri parlamentari. Fermo restando che la linea di Alfano non è una linea contro Berlusconi. Assolutamente Berlusconi è primo di ogni cosa perché è il nostro leader. Abbiamo capito. Però bisogna dare la giusta informazione alle persone perché normalmente si vuole sempre travisare quello che è la realtà. No, no, ma lei se si dovessero dividere, allora la pongo in maniera più chiara, se si dovessero dividere, lei con chi starà? Con Alfano o con il Presidente Berlusconi? Allora, io non mi pongo il problema perché non ci divideremo. Questo non me lo pongo. E poi quando si dividereanno verrò a forza? Assolutamente il problema è un altro, il problema è impensabile perché si sta facendo un nuovo partito, si ritorna a Forza Italia e qua si vuole, la Santanchè vorrebbe muovere i fili così come fitto. Non è giusto, si deve aprire una discussione interna. Se ci dovrà essere la candidatura di Marina Berlusconi dovrà essere l'ufficio di Presidenza con tutta la base che deve mandare, altrimenti è inutile dire... Lei è stato chiarissimo. Siamo in aula, in questo momento siamo in aula, vediamo come si evolve la vicenda del Consiglio. Per intanto è da chiarire se è legittima la convocazione in seconda convocazione. Dopodiché ognuno di noi poi si determina per quello che può essere la responsabilità sempre di coversi i cittadini che ci hanno eletto. Che fate stamattina? State in aula? Se va a questo Consiglio? Ma veramente qui non si capisce questo Consiglio se è convocato in prima o è convocato in seconda, non si capisce. E se non lo capisce lei, chi lo deve capire? No, io l'ho capito, io l'ho capito com'è, perché a me pare che sia seconda convocazione. E seconda convocazione non si potrebbe tenere, non si può tenere in seconda convocazione. Quando un Consiglio si tiene in seconda convocazione, quando il primo è andato deserto, la seduta non viene aperta. Ma quando una seduta si apre si deve convocare un nuovo Consiglio o quantomeno si poteva fare una sospensione, votare la sospensione, rimandare a un altro Consiglio, non lo so, a un'altra data che poteva essere oggi, domani, non lo so. Urgente, dice, convocazione. Urgente. Questa è una... La risposta alla Corte dei Conti è importante. Beh, è importante la Corte dei Conti, però è un problema della maggioranza anche perché non è mai venuta in commissione la risposta che si deve dare alla Corte dei Conti. è una maggioranza che non c'era e non c'è. Speriamo che non ci sarà mai perché non ci sarà più, perché hanno combinato tanti guai in questa provincia, in questo nostro territorio martoriato da mille problemi, irrisolti e che loro non ne hanno risolto nemmeno uno. Allora, seconda convocazione o prima convocazione? Vale, questo bisognerà vedere. Secondo lei che siamo in primo o in secondo? Siamo, beh, dalla comunicazione che hanno mandato siamo in seconda convocazione. Quindi lei che dice che siamo in seconda o in prima? Il Consiglio è convocato come seconda convocazione, però probabilmente questo non era possibile visto gli argomenti che ci sono all'ordine del giorno. Comunque sia, io mi meraviglio un po' di alcune cose, perché come diceva Totò, qui si discute sempre di quisquiglie. Dal punto di vista politico, anche l'intervento che è stato fatto al precedente Consiglio in prima convocazione a questo punto, insomma, ma la maggioranza in questa provincia è chiara da molto tempo. Così come al titolo personale io devo precisare che la mia personale posizione politica è chiara già da molto tempo, io ho preso le distanze da un modello politico, un modello politico che ha visto comunque una forzatura, bisognava per forza che il PDL andasse verso un certo percorso che io non ho condiviso non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale e quindi politicamente ho preso le distanze, ho militato, oggi sono in lista civica per l'Italia. Mi meraviglio anche di alcune cose che scrivono sui giornali, recupero o non recupero. Beh, io devo dire chiaramente che con questo modello non centro. L'ultimo consiglio è la mia posizione, ritengo di averla chiarita anche in merito all'argomentazione sull'aeroporto. E intanto è arrivato Ferdinando Mutti. Ferdinando Mutti, allora, che fate stamattina? Lei che è uno dei portabandieri dello scontro? No, dello scontro sulle regole. No, io... si rimane sulle posizioni precedenti, cioè non c'è stata nessuna discussione carificatoria col Presidente e con il partito. Si continua a far finta di non vedere una situazione difficile. Io credo che, almeno per quanto mi riguarda, la mia posizione rimane una posizione distante dalla maggioranza, è chiaro? Quindi stamattina che fa? Se ne va? Resto? Io, intanto, aspettiamo, diciamo, a breve se questo consiglio è un consiglio valido, perché io so che vogliono fare... A me personalmente mi è arrivata una comunicazione di questo consiglio in seconda convocazione e trovo difficile pensare che questo è un consiglio che si possa consumare in seconda convocazione perché il 25 il consiglio è stato convalidato, quindi poi i punti in discussione sono stati ritirati e si è sciolto il consiglio perché non c'era più il numero legale. Quindi io voglio prima capire se questo è un consiglio in prima convocazione o in seconda convocazione. Se in prima convocazione, a mio modo di vedere, è pure un consiglio non valido perché ci vuole prima la conferenza dei capigruppo a decidere le modalità di un consiglio e i punti da portare in consiglio per la discussione. Quindi trovo difficile che oggi ci hanno chiamato qui a venire in consiglio. L'altra volta lei era assente. No, io era assente per motivi familiari. Ah, ma allora è giustificato. Sì, super. No, ma eravate in due assenti democratici. Cioè voi siete andati in giunta per garantire... Io dovevo venire anche come sindaco, però ho avuto dei problemi familiari. Allora, problemi familiari vengono prima di tutto. Appunto, quindi io non faccio come gli altri tatticismi e cose. Io lo dico sempre. Noi adesso facciamo parte della maggioranza nel bene o nel male, quindi ci assumiamo tutti... Nel bene o più nel male? Non lo so, questo lo vedremo. Questo lo vedremo, però ripeto, ormai visto che c'è anche il decreto svuota province, svuota poteri, come si dice... Entra il 31 dicembre... Io credo che questi ultimi giorni, questi ultimi scorcioli di legislatura, uno deve cercare di non fare più danni di quello che ha fatto. Me ne assumo le responsabilità, quindi cerchiamo di dare un contributo positivo, al di là di quelli che sono poi i risultati, perché sicuramente non si voterà più alla provincia di Crotone. Quindi alla fine è un peccato dover lasciare tutto in mano così alla storia in senso negativo. Grazie. 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 Non c'è una posizione chiara come nemmeno quando facciamo il consiglio nel Pertini perché sono gruppo misto e non hanno una collocazione, che so io la giunta rispecchia la maggioranza, quindi in giunta ci sono Udc, Fli, Pdl, Democratici, io sono gruppo misto, sono insieme con la maggioranza per le cose che trattano di problemi legati alla legalità e problemi legati al territorio di interesse comune. Quindi io sono a favore quando si tratterà di questi temi. Il numero 70 che sta a pagina 57, l'articolo 85 che sta a pagina 65 e l'articolo 79 che sta a pagina 61. La fattispecie nostra è quella regolamentata. Barberio ha chiesto la parola come pregiudiziale per contestare la convocazione di questo consiglio in seconda convocazione e c'è un confronto adesso col presidente del consiglio Benedetto Proto, ci sono divergenze di vedute. Il presidente del consiglio sospende la seduta. L'avviso di convocazione per la presidenza. Barberio dice se il problema è approvare la risposta alla Corte dei Conti, noi siamo disponibili a mantenere il numero legale, altrimenti se insistete per fare tutto il resto, se ce ne andiamo, vi facciamo mancare il numero legale perché siete in seconda convocazione. L'importante dice Barberio è che ha portato il regolamento cosa in commissione, lo discutiamo e lo approviamo. Barberio ha invitato i consiglieri a leggersi l'articolo 101 del regolamento che chiarisce che secondo lui siamo in prima convocazione e non in seconda. Io innanzitutto gradirei che il segretario facendo funziona metta a verbale come interpreta questa parte del regolamento. Io chiedo, appena finisco, che il segretario facendo funziona, perché è una questione interpretativa. Io la penso esattamente come consigliere Barberio. È intervenuto Schifino e dice di mettere a verbale un giudizio al segretario facendo funziona, al dirigente che è presente in questo momento in aula. Un giudizio interpretativo della legge, di metterlo a verbale, Schifino dice io ho una lunga esperienza e secondo me ha ragione il consigliere Barberio che siamo in prima convocazione e non in seconda. La critica del gruppo che io rappresento è semplice, voi non avete una maggioranza, voi non potete approvare queste cose che non sono passate dalle commissioni, cosa? Nel modo più assoluto, anche perché... Aggiunge, voi la maggioranza non ce l'avete, non potete approvare le cose che non sono passate in commissione. La presenza qualificata, eccetera, eccetera. Interviene il presidente Zurlo. La considerazione mi consente il consigliere Barberio che è un regolamento che ha tre articoli che dicono cose apparentemente o nella realtà differenti. Lei dice giustamente che dal 1999 non lo legge. Il presidente della provincia ha detto che si resta in seconda convocazione perché di fatto non si modifica nulla. Deve fare mettere a verbale la dichiarazione del segretario perché in questo momento è lui l'elemento che deve interpretare il regolamento, assumendosi tutte le responsabilità. Per il segretario dichiarerò io qual è la posizione del segretario che poi metterà l'entrale... Dichiarerà lei? Una posizione concordata, non è che il carabinino... Certo, ma la responsabilità è questa. Usamente tutti i presenti. Non c'è stato accordo nel consiglio provinciale perché la maggioranza ha continuato a sostenere che si era in seconda convocazione. La minoranza pur dando la disponibilità a trattare il punto della Corte dei Conti ha continuato a sostenere che si era in prima convocazione. Alla fine c'è stata la rottura e dieci consiglieri hanno abbandonato la seduta. Dieci consiglieri anche tra gli ex maggioranza in sala sono rimasti in dodici. Nell'emiciclo consigliare sono rimasti in dodici, in questo caso lì alla ragioneria. Si sono approvati il primo punto, quella del revisore dei Conti, e sono andati via. È ovvio che su questa questione ci sarà polemica perché l'opposizione, la minoranza, annuncia che farà ricorso anche in prefettura. Politica, si sono tenute ieri le primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario provinciale di Crotone del Partito e anche in questo caso non mancano polemiche e fratture. Guerra all'interno del Partito Democratico. A determinare gli scontri tra le varie parti, tra le varie anime del Partito Democratico, sono state le primarie che si sono celebrate ieri a Crotone, ieri mattina e ieri pomeriggio. Negli altri 26 comuni si è votato solo di pomeriggio. Intanto hanno votato in 6.300. Questo è il dato che siamo riusciti perché di ufficiale ancora non c'è nulla. Ufficiale intendo dire che la commissione del congresso che è delegata a dare i dati, dati non ce ne ha dati. Ufficialmente nessun dato. Abbiamo dati che ci sono stati forniti dalle varie aree che hanno determinato il congresso, dagli enturaggi dei diversi candidati, Arturo Pugliano Pantesano, Michele Laurenzano e Giuseppe dell'Aquila. E allora, guerra perché? Guerra perché ieri mentre si celebrava il congresso c'erano i banchetti fuori che facevano le tessere. Cioè potevano partecipare al voto persone che fino a ieri non erano tesserate, che si sono tesserate in occasione di questa iniziativa del Partito Democratico. Intanto ricordiamo che appunto erano tre i candidati, come abbiamo detto, Arturo Pugliano Pantesano, Michele Laurenzano e Giuseppe dell'Aquila. Perché non possiamo dare dati? Perché l'attribuzione dei seggi non avviene seggio per seggio, ma ci dovrebbe essere un riequilibrio in base ai voti complessivi che ognuno ha preso poi all'interno della provincia. Allora, quelle che stiamo per darvi sono dati, ve l'ho detto che ci sono forniti dai diversi anturagli. Secondo questi dati, ecco, il vincitore di questa prima tornata è Arturo Pugliano Pantesano, che ha conquistato il 43% dei consensi, sempre secondo dati forniti dall'anturaglio di Pantesano. Pantesano, Laurenzano ci viene dato al 31%, il 26% dell'Aquila. Pantesano sicuramente ha vinto in città, ha vinto in città, nella città capoluogo dove ha avuto il 76% e dalla sua parte ha avuto tutti, ha avuto il partito crotonesi, il partito della città, il segretario cittadino Sergio Contarino, ha avuto il sindaco, ha avuto la giunta tutta schierata a favore di Pantesano. Quindi, in città vince Pantesano, anche se questa vittoria, poi vediamo come Pantesano se la potrà giocare, perché il problema di queste elezioni sono le prospettive, le candidature in prospettiva, perché, diciamocela chiaramente, in gioco c'è la scelta del candidato a sindaco. Qui hanno vinto tutti, ha vinto Pantesano, che è il candidato ovviamente in prima persona, ha vinto lui in città, ha vinto Sergio Contarino, che è il segretario cittadino, ha vinto il sindaco della città, che ha appoggiato, ha vinto la giunta. Allora, questa vittoria elettorale consentirà a Pantesano di porre con forza la sua candidatura a sindaco? E che ne pensa Contarino? Perché allora si capirà poi, realmente, chi vince e chi perde la competizione. Quando verrà il momento di scegliere il candidato a sindaco? Per il momento, Pantesano in città vince. E gli altri dati, ve li leggiamo uno per uno. A belle vedere Spinello, Pantesano ha preso quattro voti, Giuseppe dell'Aquila, nessuno. Sono tutti ancora voti non ufficiali, eh? 40 a Laurenzano, a Caccuri 24 Pantesano, 21 dell'Aquila, 8 a Laurenzano, a Carfizzi nessun voto Pantesano, 29 dell'Aquila, 23 a Laurenzano, a Casabona, 1 Pantesano, 132 dell'Aquila, 108 a Laurenzano, a Castelsilano, 2 Pantesano, 20 dell'Aquila e 20 a Laurenzano, a Cerenzia 10, 10, 14 e 3, i nomi sono messi sempre in quell'ordine, a Ciro solo dell'Aquila ha preso 231 voti, gli altri due candidati, nessuno, a Ceronmarina 1, 323, 61, a Cotronei 7, 221 e 195, a Crotone 1524, Pantesano, 126 dell'Aquila e 318 a Laurenzano, a Cucoli 130 a Laurenzano e gli altri nessuno, a Cutro 169, Pantesano 7 dell'Aquila, 361 a Laurenzano, a Isola Caporezzuto 187, Pantesano 0 dell'Aquila e 23 a Laurenzano, a Castella 10 a Laurenzano, a Melissa 119 dell'Aquila, 256 a Laurenzano, a Mesoraca 102 a Laurenzano, e gli altri 0, a Ballagorio 5, Pantesano e 5 dell'Aquila, a Petella Policasto 136, Pantesano 3 e 1, a Rocca di Neto 0, Pantesano 54 dell'Aquila e 45 a Laurenzano, a Rocca Bernarda 2, 52 e 143, San Mauro 0, Pantesano 0 dell'Aquila e 91 a Laurenzano, a San Nicola dell'Alto 13, 37 e 23, a Santa Severina 0, Pantesano 19 dell'Aquila e 9 a Laurenzano, a Savelli 56 ha fatto il pieno Lamplen Pantesano, a Scandale 109 dell'Aquila e 11 a Laurenzano 0 invece Pantesano, a Strongola ha fatto Lamplen, a Laurenzano che è sindaco 466, a Torretti di Crucoli 26, 13 e 12, a Umbriatti con Lamplen 51 a Laurenzano, a Verzino la stessa cosa 122 a Laurenzano. Insomma, da questi dati che cosa emerge? Che cosa emergerebbe? Se fossero assegnati i voti paese per paese, seggio per seggio, che Pantesano avrebbe vinto la competizione conquistando 65 delegati? Perché adesso saranno i delegati ad eleggere il segretario Laurenzano 47 e dell'Aquila 38. Che cosa invece potrebbe succedere secondo l'entourage di Sulla? Che quando si va a fare il riequilibrio Laurenzano diventa il primo candidato e da legge 72 delegati, quindi lui sarebbe eletto segretario con 72 candidati, 65 toccherebbe a Pantesano e 44 a Dell'Aquila su una platea di 181 candidati. Questo potrebbe succedere. È successo di tutto e di più. Per esempio, si è sparsa la voce che il sindaco di Cotronei, Belcastro, abbia deciso di lasciare il PD. Perché? Perché nel banchetto dove si facevano le tessere per i nuovi iscritti che volevano votare, si sono presentate anche persone che presunte dranghetiste. E a queste due persone è stata fatta la tessera. Quindi è stato... ancora lui non parla, Belcastro non vuole parlare, ma è un caso, sicuramente quello che è successo a Cotronei, se dovesse trovare conferma, è un caso, sicuramente di cui parlerà la stampa nazionale, perché appunto denuncia la partecipazione al voto di persone che si sono tesserate all'ultimo momento, perché questa poi è la questione, che sono in odore di dranghetta. E allora 6.300 sono state i votanti, 4.000 erano i vecchi iscritti, però noi non possiamo sapere quanti nuovi iscritti ci sono stati. Se avessero partecipato al voto tutti i vecchi iscritti, avrebbero votato ieri 2.300 persone nuovi iscritti. Questa è la situazione. Una situazione ingarbugliata che è destinata a provocare molte polemiche fino a quando non sarà, almeno fino a quando non sarà letto il segretario, che è previsto entro il 6 di novembre, ma la data più possibile è quella del 3 di novembre. E per chiudere la pagina dedicata alla politica, dal Partito Democratico ci spostiamo al PDL che, sia a Crotone che in Calabria, si spacca in tre. Se nel PD non si ride, nemmeno si sta tanto allegri nel PDL, dove probabilmente ci sarà una scissione tra quelli che seguiranno Alfano e quelli che invece manterranno la loro posizione con Berlusconi. A livello regionale, quindi a livello locale, come si posizioneranno? Intanto con Alfano andranno il presidente Peppe Scopelliti, poi ci saranno Tilde Minasi, Antonio Gentile parlamentari, Luigi Fedele, Antonio Caridi, Nicodascola, Dorina Bianchi e Piero Aiello. Ci saranno sempre Iole Santelli, Fausto Orso Marso, Nazareno Salerno, quindi questi per quanto riguarda la giunta regionale, Orso Marso, Salerno, Gentile, Pino Gentile, Gianpaolo Chiappetta e Giovanni Bilardi. Tra coloro che ancora non si sono schierati c'è Rosanna Scopelliti, con Rosanna Scopelliti, quindi tra i non schierati c'è Mario Magno, consiglio regionale, Giovanni Nucera, Gabriella Albano e Giuseppe Caputo. Con Berlusconi, in Calabria, il leader di quest'area è l'ex viceministro Pino Galati. Con Giuseppe Galati ci sono Domenico Scilipoti, Alessandro Nicolò, Salvatore Pacenze, il nostro consigliere regionale, Domenico Tallini, Gesuele Vilasi, Ennio Morrone, Nino Foti e Salvatore Bulzomi e Giuseppe Raffa. Insomma, questo partito, se non si troverà la ragione per restare compatto, in Calabria si rivedrà in due o tre pezzi. In un incontro tenutosi sabato in Confartigianato a Crotone, si legge in un comunicato, è stato condiviso unanimamente quanto dichiarato in Consiglio Provinciale dal segretario generale Salvatore Lucà circa la questione dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Per ovviare a tutte le difficoltà attuali, l'unica soluzione ottimale, sempre secondo quanto si legge nel comunicato di Confartigianato, è la costituzione di una società unica regionale che gestisca i tre aeroporti, assicurando di fatto a tutti i calabresi la giusta mobilità. Stamattina nella sala giunta del Comune di Crotone si è tenuta una conferenza stampa per presentare i lavori relativi al sistema di park and ride. L'assessorato Verde sta cercando di attivare questo... Architetto Dominiani, l'avevamo anticipato noi questo lavoro, oggi finalmente vediamo le immagini. Il lavoro con progetti integrati di sviluppo urbano, i famosi PISU, che riguardano i giardinetti sottostanti alla villa comunale, quelli che sono adiacenti al porto di Crotone. Li vediamo, li vediamo qui, ci sarà un parcheggio, ci sarà un chiosco con probabilmente con le bibite, un bar per ristoro, ci saranno le biciclette per chi arriva da fuori Crotone e arriva nella nostra città e vuole lasciare la macchina in un parcheggio e andare in giro con la bicicletta. Nelle altre città ci sono già queste cose, sono cose straordinarie. Soprattutto non sarà toccato nemmeno un albero, perché il problema che si sta ponendo su Facebook, stanno tagliando gli alberi, io l'ho fatto e l'ho pure detto, non sarà toccata nemmeno una pianta. Sì, infatti ho fatto portare qui le tavole del progetto apposta ai due progettisti, proprio per dimostrare che c'era stato intanto un censimento serio di tutte le piante esistenti nel giardino e poi per fare vedere come erano stati ricavati i parcheggi, nel senso che se voi avete guardato le panimetrie che abbiamo aperto poco prima, avete visto che abbiamo fatto spazio alle macchine tra gli alberi e non viceversa, non era nessuna intenzione. Tagliare gli alberi. Ma assolutamente no, il progetto è del 2012, siamo arrivati adesso all'appalto, ma il progetto è stato fatto nel 2012, quindi la signora prima chiedeva per quale motivo lo presentate solo oggi, perché a volte ci sembra di ripeterci, perché noi in più occasioni abbiamo parlato di questo progetto. Siccome si è scatenata questa polemica assolutamente impropria, che va proprio nella direzione opposta di quello che è il progetto, allora abbiamo inteso fare chiarezza, ma abbiamo fatto chiarezza sulla base di elaborati che erano già depositati in comune. Come si sviluppa questo progetto? Niente, si sviluppa, è una bella passeggiata lineare sotto gli alberi, praticamente stiamo invertendo il concetto, adesso la villetta sottana aveva delle aiuole in ghiaia, dei percorsi in ghiaia al centro, e il verde... Soprattutto è molto a spazzatura. È molto a spazzatura, è un problema di riqualificazione urbana, ma lì, professore, se non alziamo il senso civico, primo nostro, in prima persona, di tutti quelli che le usiamo, queste cose, è difficile che la riusciamo ad eliminare, questo problema, perché adesso la andiamo a riqualificare, e come la riqualifichiamo? Pensandolo proprio come una passeggiatta, come una camminata. Non so se a lei è mai capitato di fare una camminata alle 6 di mattina su questa zona della città. E vedrà che c'è tantissima gente che cammina, è vero o no? Sì. Allora, abbiamo pensato a fare un percorso tra gli alberi, quindi un percorso centrale rispetto alla villa, e lasciando le aiuole dalla parte del muro, che separa da Regina Margherita, e dalla parte poi che separa dal parcheggio, dal parcheggio propriamente detto. E quindi fare questi 500 metri di camminata naturale, senza asfalto, con delle terre stabilizzate, in maniera che anche l'approccio sia più naturale, anche perché noi lo sappiamo, l'asfalto in temperature come le nostre, d'estate rende invivibili i luoghi. Una terra stabilizzata abbassa almeno di quei due o tre gradi. Terra abbattuta, per capire. Terra abbattuta, assolutamente, sì. Per capire, no, lo diciamo per chi non avesse capito. Per capire, no, lei ha ragione, perché io uso il linguaggio tecnico che non è comprensibile a tutti a volte. In terra abbattuta, in terra rossa, quella terra rossa che... Allora, quindi, si fa questa passeggiata, c'è il chiosco, come si accede alla villa, a questo nuovo giardino? La villetta rimane tutta aperta come ora, ci si accede sia da via la Regina Margherita, perché andiamo a mettere in sicurezza e normalizzare già le scale già esistenti, che però adesso sono molto precarie, a parte quella centrale che è quella grande, eccetera. Esatto, le altre scalette vengono risistemate e messe in sicurezza. E poi ci si accede dalla testata, cioè dalla parte dell'ingresso della statua di Turano e ci si accede anche dal tunnel che stiamo per realizzare. Questo qui è l'accesso al centro storico, una delle porte di accesso della città antica. Erano tre nel medioevole, nel periodo medievale aveva tre porte, quella terranea e due a mare. E due a mare. Questa è una delle porte a mare. Questo progetto qui è in relazione con un altro progetto che aggiudicheremo in questi giorni, che quindi è stato già fatto, delle porte di accesso al centro storico, in cui si va a riscoprire questo tunnel e a renderlo funzionale e attraversabile. Il tunnel c'è, ma non è praticabile. In questo momento non è praticabile per vari motivi, anche perché non è stato mai adeguato. Verrà adeguato e sarà una comunicazione diretta tra la Villetta Sottana e la Piazzetta Pescheria, perché questo tunnel sbuca in Piazzetta Pescheria. Nei pressi, diciamo, proprio nei pressi della Piazzetta Pescheria. Quindi, è così, sarà ovviamente uno dei problemi a Crotone. Non è quello di realizzare le opere, le opere si realizzano e poi mantenerle. Visto via Fosso, lì, non via Fosso, come si chiama? Quello sotto il castello, dove avete fatto il Pantarei. Sì, nel largo lavatoio. Nel largo lavatoio. Lì avete realizzato un'opera bellissima, che si è degradata, perché manca l'acqua. Anche se adesso stiamo risolvendo anche lì con la gestione della villa, perché c'è stato un momento che la villa comunale non aveva una gestione affidata. Adesso è stata riaffidata, nell'affidamento della villa è stato incluso anche l'argo lavatoio, che tra l'altro attrae moltissimi turisti. È bellissimo, è un luogo bellissimo, solo che adesso è un immondizzaio. Adesso vediamo di rivalutare anche quello, ci vorrà poco perché è appena realizzato. Avete pensato a come gestirlo? Sì, abbiamo pensato a come gestirlo, abbiamo cominciato a porci il problema, della gestione. Allora, perché un posto sia gestito deve produrre reddito per qualcuno? D'accordo? Perché aggravare sui fondi comunali, voi sapete che sono pochissime le disponibilità che abbiamo. La scelta di realizzare questo chiosco a fianco a quella che era la caserma dei vigili del fuoco sta proprio in questo. Questo chiosco servirà sia per la gestione delle postazioni della bake sharing, ma anche come punto di ristoro per dare la possibilità a chi avrà la gestione, a chi rientrerà in questo progetto di gestione, di avere un minimo di sostegno dalle attività che si possono svolgere all'interno del chiosco. Uno dei problemi che sollevano è quella della mancanza di servizi igienici distribuiti all'interno della città. Avete previsto i bagni pubblici per le persone anziane che vanno a passeggio? Sì, 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 assolutamente sì. Verranno realizzati i bagni nella parte di sopra, cioè in quello che adesso è il giardino Baden-Paguel. Lì è prevista la realizzazione di bagni pubblici, anche perché come stava spiegando l'architetto Poggi come progettista, esattamente, dalla parte di sopra, a fianco alla villa. Sì, adiacente alla villa comunale. Come stava spiegando l'architetto Poggi, la nostra ambizione è di fare un percorso di ginnastica proprio di questa villa, un percorso di attività libera. Quindi era chiaro che bisognasse prevedere anche un bagno, perché questo percorso studiato in questo senso circolare è un percorso da un chilometro. È normale che poi una persona qualunque abbia bisogno di... Soprattutto gli anziani, soprattutto gli anziani. Va bene. Allora, assessore, tante polemiche, alla fine avete chiarito che il giardino non si tocca. Però a noi interessa sapere adesso, entrare nel dettaglio, se per quanti posti macchina ci saranno, come sarà gestito questo giardino, perché il giardino resta. Allora, posti macchina, diciamo in termini medi quadrati, sono previsti circa 1.500 metri quadrati di parcheggio, su 3.000 invece metri quadrati di verde, quindi il rapporto è questo. Il verde viene chiaramente preservato, migliorato e reso fruibile. Come si migliora il verde? Migliorando, integrando le essenze, cercando di fare un impianto di irrigazione che funzioni. Perfetto, allora ti abbiamo capito. Poi sarà reso fruibile, nel senso che è previsto un percorso all'interno della villa, anche con materiali ecocompatibili, che sono le terre stabilizzate, destinato alla fruizione mista, ciclabile, pedonale, dei cittadini. Chiaramente abbiamo inserito... Questa delle biciclette è una bella trovata, ma in bicicletta a Crotone dove si va? A parte lì, se io prendo la bicicletta lì, me la fitto, dove vado a pedalare? Allora, intanto... Intanto io rido, però intanto c'è... Che sia, diciamo, fatto bene o fatto male... No, quello è fatto bene, sicuramente. No, no, fatto bene o fatto male, sto parlando della città, c'è una pista ciclabile, primo. Sa che non ce ne siamo accorti, i pedalatori non ce ne siamo quasi accorti. Lo so, lo so, perché chiaramente realizzata con poche risorse, è stata inserita su un marciapiede pedonale, però è una pista ciclabile, voglio dire. Cioè, c'è l'individuazione di un percorso che è fruibile ai cittadini, che va da Tufolo fino a lungomare. Ora, questo sarà un ulteriore tassello da inserire nell'ambito della ciclopedonalità della città, inserendo soprattutto questo punto di bike sharing, che speriamo con il... Lo dico in italiano, è bicicletta in affitto. Bicicletta in affitto. È perché, sai, adesso va di moda, bike sharing, smart city. Sì, va bene, va bene. E quindi ci sarà data la possibilità ai cittadini di noleggiare le biciclette, che siano tradizionali, a pedalata assistita, elettriche. Quante biciclette avete previsto? Ce ne sono circa 30. Saranno una trentina, con la possibilità, chiaramente, va fatto un progetto di gestione di questa struttura e della struttura in generale del verde. E questo adesso ci stiamo lavorando. Se sono stati in gestione si creano posti di lavoro, questa è poi l'idea. Nella sostanza è questo, è la volontà del... Un milione e 600 mila. No. 200 mila. Allora, un milione e 300 mila è l'intervento complessivo. Un milione e 600 mila. Di cui 800, una base d'appalto per la realizzazione di queste opere. Architetto Dominiani. Buongiorno, buongiorno. Lei, quando si è in una conferenza stampa... Cronaca. Nella notte di sabato scorso, i carabinieri di Crotone hanno arrestato in fragranza di reato per furto aggravato e porto di oggetti atti a offendere Scarriglia Francesco, nulla facente 36enne crotonese, già nota alle forze dell'ordine. I militari, su segnalazione di un cittadino che riferiva di movimenti sospetti nei pressi del magazzino di un vicino di casa in via Gioacchino da Fiore, sono intervenuti e hanno sorpreso lo Scarriglia intento a frugare negli scatoloni presenti nel magazzino. I carabinieri, dopo aver rimobilizzato l'uomo, hanno proceduto a perquisirlo, recuperando due orologi da taschino e diverse penne stilografiche di pregio precedentemente asportate, oltre a diversi ernesi da scasso utilizzato dall'uomo per forzare la porta d'ingresso. 55 migranti, tutti in buone condizioni di salute, tra i quali due donne, una incinte e cinque minori, sono sbarcati nel porto di Crotone. I migranti di nazionalità pakistana, siriana e afrogana erano a bordo di un motopeschereccio battente bandiera greca, che è stato intercettato da una motoveletta della Guardia di Finanza ad un miglio dalla foce del fiume Neto. L'imbarcazione è stata scortata sino al porto. I migranti sono stati rifocillati e trasferiti nel centro di prima accoglienza di Isola Capodissuto. La Polizia di Stato, che ha avviato le indagini, ha arrestato il presunto scafista dell'imbarcazione, Mohamed Foudi, di 35 anni, egiziano. All'interno dello zainetto che l'uomo aveva con sé, è stato trovato un GPS portatile, Foudi è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'intensificazione dei servizi di vigilanza predisposti dalla Capitaneria di Porto di Crotone in questo periodo dell'anno, caratterizzato sia dal periodo di fermopesca, che soprattutto di riproduzione di alcune specie ittiche particolarmente tutelate, ha condotto nel fine settimana alla verbalizzazione di due subacquei intenti in illecite attività di pesca. Un primo sub è stato individuato da una motovedetta della Guardia Costiere e poi fermato da personale militare sulla spiaggia, mentre era intento effettuare pesca subacquea con l'ausilio di bombole. tale illecita attività di pesca ha condotto all'irrogazione a carico del sub di una multa di 1.000 euro e al sequestro di tutte le attrezzature illecitamente utilizzate. Un secondo subacqueo è stato invece individuato dai militari, mentre nel corso della notte stava effettuando pesca subacquea in prossimità dell'imboccatura del porto di Crotone anche in questo caso errogate 1.000 euro di multa e sequestrata l'attrezzatura. Nei prossimi giorni in piazza Villaroia a Crotone, iniziativa dei Vigili del Fuoco promossa dal Ministero dell'Interno, sentiamo di che si tratta. Siamo in piazza Villaroia, centro storico, i Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno, il Soccorso Pubblico, quindi i Vigili hanno piantato questa tenda. Perché? Qui per alcuni giorni, per alcuni giorni del prossimo mese di ottobre e novembre, a cavallo dell'ottobre e novembre, ci sono una serie di iniziative. Andiamo a vederle. Intanto l'iniziativa generale si chiama Dentro le Mura. Racconti sotto la tenda che avete visto. Il programma prevede che il 31 ottobre si tratterà l'argomento di rischio generale. Giovedì 7 novembre, prevenzione incendi. Giovedì 14 novembre, comportamenti individuali delle istituzioni. E giovedì 21 novembre, i piani di emergenza. Nel corso di questo programma, se ci saranno trattati questi argomenti, è prevista una uscita per attività di simulazione, in compagnia dei Vigili del Fuoco, nei vicoli e nelle piazzette del centro storico. Parteciperà la cura di questa iniziativa del professor Francesco Costa, biochimica control, che parlerà di gestire in modo consapevole la nostra quotidianità. Gli incontri si terranno tutti di pomeriggio. Ci sarà sempre la presenza dell'archeologa Margherita Corrado, dell'Associazione Culturale Sette Soli. Cominciano a sognare i tifosi rosso-blu dopo che la formazione di Mr. Drago ha raggiunto il quarto posto in classifica dopo la vittoria esterna ottenuta sabato scorso contro la Ternana 2-3. Finito l'incontro Ternana-Crutone ed è proprio la Ternana ad andare in vantaggio con Antenucci al sesto minuto del primo tempo. Il Crutone pareggia dopo tre minuti grazie a Pettinari. Poi il Crutone ribalta il risultato con un gran gol di Bidoui. Ad inizio ripresa la Ternana segna il gol del pareggio con Nolema. Al 44esimo il Crutone segna il terzo gol, quello che conferisce la vittoria al Crutone con De Giorgio che aveva sostituito Bernardeschi e che in azione solitaria e con i giocatori della Ternana fermi a guardare ha segnato il terzo gol. Ha preso il via oggi il Magico Festival e l'edizione di Halo e il domani atteso appuntamento alle 20.30 al Teatro Apollo di Crutone con Mago Forest. Ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crutone e Provincia si prospetta parzialmente nuvoloso. visibilità ottima e vento di 9 nodi 27 gradi la temperatura massima prevista nella città a capoluogo 17 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio tempo a vento da nord ovest a forza 4 in attenuazione sereno o poco nuvoloso con foschia visibilità discreta in aumento mare mosso tendenza vento variabile forza 3 sereno o poco nuvoloso. Bene, la nostra informazione per oggi è terminata io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci. a a a a a a a a a Grazie a tutti.